La vita cristiana come discepolato e il tema scelto per la giornata di Medellin inaugurata con un poco di ritardo per le avverse condizioni atmosferiche all'aeroporto Enrique Olay Herrera per la Santa Messa. Ai fedeli presenti Papa Francesco ha indicato tre atteggiamenti che dovrebbero plasmare la vita dei discepoli, andare all'essenziale, rinnovarsi e coinvolgersi. Per essere cristiani infatti non basta avere un certificato di battesimo ma occorre essere dinamici, andare in profondità a ciò che conta e a valore per la vita senza coltivare un freddo attaccamento a norme e leggi. In questo modo è possibile rinnovarsi impegno primario della Chiesa senza paura abbandonando comodità e attaccamenti. In un mondo che ha sete di Dio coinvolgersi è ineludibile anche se per qualcuno questo può sembrare sporcarsi o macchiarsi. Non possiamo essere cristiani che alzano continuamente il cartello ha proibito il passaggio, ha precisato il Pontefice. La Chiesa non è una dogana, vuole porte aperte perché il cuore del suo Dio non solo è aperto ma è trafitto dall'amore che si è fatto dolore. Una verità che era chiara a Pietro Claverra che come discepolo di Gesù non poter rimanere indifferente davanti alle sofferenze dei più abbandonati e oltraggiati del suo tempo. La Chiesa in Colombia è chiamata a impegnarsi con maggiore audacia nella formazione dei discepoli missionari, ha concluso Papa Bergoglio, che sanno vedere senza miopie ereditarie, che esaminano la realtà secondo gli occhi e il cuore di Gesù e da lì giudicano e che rischiano, agiscono e si impegnano.